Ha sensazioni positive perché i ragazzi hanno lavorato bene in questo periodo. Siamo pronti ad affrontare la regina nel migliore dei modi. Essendo la prima non abbiamo avuto modo di capire come ha lavorato. Quindi è una sorpresa anche per questo perché vogliamo capire un po' il valore degli avversari. La regina ha sempre lavorato bene con il settore giovane, quindi sicuramente sarà una partita difficile. Poi speriamo di poter fare una grande gara, soprattutto da alcuni di vista caratteriale e delle idee di gioco. Ha emozioni forti perché, lo ripeto, sono rientrato a Salerno, la Salernità, a difesa della Salernità, quindi per me è un onore poter rappresentare i vertici del settore giovane della Salernità. E poi, lo ripeto, si parte dall'anno zero con una proprietà ambiziosa e importante dove ha puntato tanto anche sul settore giovane.